Era un po' di tempo che non mi capitava per fortuna, devo dire, sapete che io ho avuto la scorta, ho avuto minacce di morte. Bene, ieri sera entrando allo stadio prima di Genua-Roma, ero con mio figlio minore, sono stato insultato da 5 tifosi della Roma che hanno iniziato a dire, ah lo vedete, questi sono quelli per cui l'Italia è stata rovinata, quello stronzo che ha promosso i vaccini, adesso gli chiedono il Green Pass, questa è l'Italia. Ora io non ho ovviamente nulla contro la Roma e squadra calcistica, questi sono evidentemente i 5 imbecilli che potrebbero tifare per qualunque squadra, anche evidentemente per la mia. Però è brutta questa cosa qua, che c'è qualcuno che si permette davanti a un ragazzino, davanti a tante altre gente di insultarti, perché cosa poi per le mie posizioni per i vaccini, vi rendete conto che brutto paese che è l'Italia, che gente Italia con cui abbiamo a che fare, non accettare che oggi noi siamo arrivati dove siamo arrivati anche grazie alle vaccinazioni, anche grazie allo sforzo dei sanitari, quindi anziché sentirsi dire grazie e ti devi sentire dire che sei uno stronzo, come è stato detto ieri sera da questi 5 cretini, siete solo dei cretini.